Un rapporto quello tra la società peraia e il gruppo ambulanze di Valle che si consolida sempre di più. Sì, infatti il tutto è partito dall'assemblea che è stata fatta l'anno scorso a Re, dove è stata lanciata la proposta di acquistare questo mezzo, ha fatto un tavolo di lavoro che ha portato oggi in inaugurazione del mezzo. Siamo molto contenti del risultato, la società peraia con questo avrà ancora maggior visione e non ci siamo messi a disposizione per gestire il servizio.